Piste ciclabili, sicurezza stradale, trasporto pubblico efficiente e politiche per una città senza auto, lo chiedono le associazioni di bikers e quelle ambientaliste a Napoli. Stamattina hanno promosso un flash mob davanti Palazzo San Giacomo simulando ciclisti con le loro bici investiti e uccisi. Le richieste sono rivolte al sindaco Manfredi che secondo le associazioni in quasi un anno dall'insediamento non si è occupato minimamente della questione, anzi spesso ha espresso opinioni contrastanti su piste ciclabili, ZTL e spazi di mobilità alternativa. In piazza c'è stato anche un momento di ricordo delle recenti vittime della strada, quattro persone di cui due bambini hanno perso la vita in pochi mesi. A Cavalleggeri Christian, tre anni, ucciso mentre era sul marciapiede con la madre. A Pianura Mustafa è morto e investito mentre era in bici. Pochi giorni fa Ilvira è investito e ucciso sul lungomare da una moto e ancora lo stesso giorno un bimbo di tre anni morto mentre era in scooter con il padre. È arrivato il momento di dire basta e che l'amministrazione comunale prenda posizione e faccia delle scelte. Le associazioni chiedono anche un tavolo di confronto con il comune. E intanto, secondo uno studio di Clean Cities, Napoli è l'ultimo posto su 36 grandi città europee nella classifica su mobilità urbana e qualità dell'aria. I cittadini chiedono interventi urgenti in alcuni punti nevralgici della città dove si respira aria avvelenata.